Bella rega, qui è Gian e questo è un nuovo video su un gioco pessimo, un gioco di merda, un gioco che spero morisse adesso, The Impossible Game Ok, perchè devi insultarmi in questa maniera? Cazzo di stai, intanto... Ahaha Certo che l'ho ottimata, cos'è che devo ottimare? Ti riprendi Allora, questo gioco consiste in un quadratino che deve saltare di tre angolini, perciò è un gioco abbastanza semplice, almeno sembra Andiamo a vedere how to play Attempt 1, tentativo 1 Puoi saltare, bla bla, questi salti, bla bla, ok Ok, ok Sembra abbastanza semplice, sì sì, pezzi di merda Credo che il programmatore di questo gioco sia tipo un bastardo, pezzo di merda Va bene, alziamo la musica a livello massimo Ok Oh cazzo, ok 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 allora, tentativo 2 Sto già incazzando Allora Smettila di distrarmi Matte Vabbè Ok 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 Finora è normale Qua arriva difficile Ok Qua è impossibile Oddio 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 Ok Sono pronto Ok 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 tattattattattattattattager EI POP ok 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 oh 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 Dio, ma... No! Non sto sclerando! Non provo! Concentrazione! Focus! Ce la si può fare! Tatatatan tatan Tatatatan No! ok 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 un pro un pro sono un pro questa musica di merda non mi tocco guarda devo saltarne 3 concentrazione no ah 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 si li ho saltati li ho saltati calma 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 oddio mio oddio mio oddio mio oddio mio oddio dove cazzo ero arrivato oddio oddio tu master non ti immagini tu dove cazzo ero a finale tutto dove mi racconta il il Cosa? Le bandierine Occhio Che cazzo È vero Oh È molto più Ecco È molto più Nice and beautiful Così Ah Ah Però è troppo calmo Non riesco a concentrarmi bene Carino Così mi piace di più il gioco Fa fanculo Oh 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 Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ah. ok 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 tu 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 aspetta 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 ok 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 Dio me Dio era più divertente con la musichetta oddio oh oh smettiamola porco ok 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 oddio madonna ok aspetta no 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 c'ero l'avevo saltata si no ok 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 basta ok ok basta ok 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 le bandierine no non ci credo dove cazze non ci credo non ci credo non ci credo poi arrivo qua ne metto una ecco ok 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 come faccio a saltare devo saltare il momento giusto ok no però poi non devo tenere premuta ok 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 l'ho finito l'ho finito con le bandierine ok ok faccio cagare va bene va bene fa il culo gioco di merda porco oddio